Il Cosenza ha giocato bene e addirittura ha dato, possiamo dire, più che un pensiero al Cosenza. Sì, siamo soddisfatti per il risultato e ovviamente in questo momento il Cosenza per i carichi di lavoro è sicuramente imballato, era molto più difficile per loro che per noi giocare. Sono contento dei ragazzi, c'erano tante persone in prova e diciamo che hanno superato tutti la prova dal nostro punto di vista. Mister, dopo il test anche contro il Crotone io potrei dire che la Morrone già sta cominciando ad avere qualche idea in mente, anche tattica, diversi moduli provati. E' una squadra che dà veramente più a torcere già a squadre professionistiche, questo è già un punto di vantaggio a questo punto del campionato. Diciamo che è un po' prematuro questo, i moduli che abbiamo cambiato li abbiamo cambiati per cercare di capire come giocano i nuovi, chiedendogli dove ti piace giocare, quindi il cambio di moduli è stato più per mettere ad agio i ragazzi, per capire le loro caratteristiche, perché ci sono 5-6 ragazzi che stiamo provando e stiamo chiedendo, valutando dove giocano meglio, che poi in base a loro, gli under e il resto della squadra. Quindi è prematuro parlare di mettere in difficoltà squadre come il Cosenza. Abbiamo solo cambiato, non pensando a loro, ma pensando a noi, ai ragazzi che dobbiamo cercare di valutare. Mister, è una squadra che anche quest'anno si baserà tantissimo sui giovani, ancora una volta un'ottima prestazione a parte di Lacri. Che campionato aspetta la Morrone? Sicuramente ci aspetta un campionato difficilissimo, il fatto che siamo giovani, una squadra giovane ci avvantaggia in questo tipo di partite, ma poi in campionato sarà tutt'altra musica, però ovviamente io sono contentissimo di allenare i giovani, con me sfondate una porta aperta, voglio questo tipo di squadra. Mister, cosa l'ha soddisfatto maggiormente in queste due amiche? Allora, questo è un gruppo che ancora non è un gruppo, per forza di cose, però dimostrano di avere, anche per età, per interessi, dimostrano proprio di essere abbastanza, di ragionare in un solo modo. Sono tutti ragazzi che alla fine hanno voglia di mettersi in prova, in luce, sono molto amici fra di loro, anche se hanno difficoltà a scambiare, a parlare tra di loro, perché uno parla argentino, uno è sloveno, uno è croato, c'è tanta difficoltà, però il fatto che l'età sia più o meno quella, tutti i giovanissimi veramente li rende omogenei in questo, e questo sicuramente se poi le scelte saranno confermate sarà magari un vantaggio per il prosievo.